nessuna violenza sessuale è stata commessa nei confronti dell'ex convivente Angelo Zumpano, un 61enne residente del comune di Torrorsaia viene assolto dalle accuse perché il fatto non sussiste e non solo, accadere anche il reato di stalking per il quale il 61enne era stato denunciato sempre dall'ex convivente per poi essere prosciolto l'unica condanna è quella di un anno e quattro mesi per l'evasione a stabilirlo è stato il Tribunale di Valo della Lucania con sentenza disposta lo scorso 18 aprile i fatti per i quali era stato dato inizio al procedimento penale risalgono al mese di settembre del 2021 periodo durante il quale l'ex convivente, una 46enne del posto decide di denunciare il 61enne per i presunti reati di stalking violenza sessuale ed evasione l'uomo infatti all'epoca degli accadimenti era sottoposto alla misura restrittiva della detenzione domiciliare per lo sconto di una pena residuale di un precedente reato motivo per il quale subito dopo la denuncia presentata dalla donna e l'immediato avvio del codice rosso per Zumpano si aprirono nuovamente le porte del carcere di Valo della Lucania fino allo scorso luglio 2022 quando dopo la seconda udienza dibattimentale l'imputato difeso dagli avvocati Rocco Colicigno e Giovanni Mazzeo è stato definitivamente scarcerato durante l'udienza infatti è stato modificato il quadro accusatorio che pendeva in capo al 67enne le violenze e i maltrattamenti sono stati circoscritti ad un periodo più breve rispetto a quello precedentemente indicato dalla donna quest'ultimo dunque risulterebbe compreso tra i mesi di luglio e settembre 2021 inoltre a quanto emerso dalle indagini non ci sarebbe stato nessun tentativo di violenza nei confronti della 46enne a tutto questo è stato aggiunto anche il successivo ritiro della querela presentata dall'ex convivente una serie di elementi che hanno portato i giudici del Tribunale di Vallo della Lucania ad assolvere e a scarcerare Angelo Zumpano